Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sulla metro B1 aperto il parcheggio di scambio di Sant'Agnese Anibaliano. Sono 268 posti auto, 16 quelli per le moto, l'ingresso è da via Spalato, l'uscita su Corso Trieste. Il nuovo parcheggio di scambio di Anibaliano, gestito da Atac, è su tre livelli e come sempre è gratuito per gli abbonati Metrebus. Le altre notizie, cantieri giubilari al via ai lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento. Per fare spazio al cantiere la linea 19 Nav sposta la fermata di Capolinea su Viale Giulio Cesare la 590 all'altezza della fermata metro di Cipro.